Buongiorno Mister, Massimo Canta di Cartacanta. Questa squadra ha sicuramente tanti leader, uno sicuramente ce l'ha in difesa è Armando Izzo. Volevo chiederti che cosa ti sta dando in campo e che tipo di persona è fuori. Armando per noi è un giocatore incredibile, eccezionale, è un giocatore che ci alza il livello sia in campo che fuori perché è maturato molto come ragazzo, io lo conosco dai tempi del Genoa perché giocavamo insieme, è cresciuto tantissimo, è maturato, è diventato un leader carismatico, parla anche alla squadra prima della partita, dà sempre una parola di conforto a tutti, è un ragazzo che ci alza completamente il livello, è diventato davvero un giocatore importantissimo, per quanto mi riguarda le sue qualità può fare ancora uno step per arrivare in una squadra di livello ancora superiore secondo me perché ha delle qualità per poter farlo, però per lui in questo momento il Monza è il massimo e sta dando davvero tutto e io sono felice di averlo perché è un giocatore straordinario.